La nostra idea di impresa consiste nella creazione di un villaggio turistico a Saravangina, un'isola di Madagascar. Gestito da qualificati istruttori italiani, il villaggio turistico è in grado di offrire servizi creativi e sportivi in modo che i visitatori possano vivere esperienze indimenticabili. Il villaggio turistico è situato in prossimità del mare ed offre ai turisti vari servizi di trasporto per il raggiungimento dell'hotel ed inoltre un autobus per lo spostamento su strada. Il villaggio turistico inoltre offre molti servizi, per i quali piscina, gestito da personale addetto, centro benessere con tutti i relativi servizi, parco giochi con animatori per il divertimento dei più piccoli e ristorante con menù clientico dedicato a tutti i visitatori che vogliono degustare piatti italiani e internazionali. Inoltre vengono organizzate quotidianamente escursioni naturalistiche come visite nell'entroterra dell'isola, immersioni subacquee per ammirare la meravigliosa barriera corallina e attività sportive tra colizioni di surf o trekking. Abbiamo scelto questo tipo di progetto perché intendiamo incrementare nel posto il settore terziario che per ora è inesistente e per offrire un'occupazione alle popolazioni locali. Il nostro aspetto innovativo consiste nella semplificazione della burocrazia, nel versamento di una minima somma di acconto, rimborsabile almeno una settimana prima, ristoranti con piatti di diversi paesi, connessione wireless in ogni stanza, ma a nostro parere l'aspetto più innovativo è quello di fare entrare i turisti in contatto con culture ed etnie fino a questo momento ignorate. The Wonders of Africa fornisce servizi a tutti coloro che sono interessati a trascorrere un soggiorno in armonia con se stessi e in contatto con la natura tra le meraviglie locali. Al cliente si consiglia di aderire a questo servizio in quanto garantisce un soggiorno piacevole ed entusiasmante all'insegna del relax che permetta di lasciare alle spalle gli impegni della vita quotidiana. Il rispetto dell'ambiente è garantito tramite alcuni gesti comuni come la raccolta differenziata e il tentativo di sfruttare il più possibile le risorse naturali che offre l'isola. In più nella struttura del villaggio sono applicate pannelli solare e illuminazione a basso consumo energetico. La promozione del progetto avviene attraverso una pubblicazione su internet dove è presente il nostro sito www.lemerviglie-italia.com Uffici specializzati come agenzie turistiche situate nella sede milanese, pubblicità a domicilio mediante la distribuzione di volantini, locandine, depiliano, brochure. Se tu pensi che i sogni non si possano realizzare, vieni sull'isola di Sarabangina e li potrai realizzare. Mi chiamo Suad, mi chiamo Roberta, mi chiamo Vadia, mi chiamo Giulia, mi chiamo Jessica, mi chiamo Gaia, mi chiamo Federica, mi chiamo Angela, mi chiamo Virginia, mi chiamo Letizia, mi chiamo Deborah, mi chiamo Amal.